Ogni secondo del video che andiamo a vedere corrisponde ad un giorno di Giove o a circa 10 ore terrestri. Questo video è stato realizzato da un'animazione di 16 fotogrammi delle immagini di Giove riprese da Voyager 1. Ognuna delle 16 immagini è stata composta da Bjorn Johnson con tre fotogrammi Voyager presi attraverso i filtri arancione, verde e blu, dove li ha riproiettati su una mappa cilindrica, l'ha poi allineata per proiettarla nuovamente nella forma sferica leggermente schiacciata di Giove. Praticamente 16 secondi corrispondono a 160 ore terrestri. Su questa pagina della NASA, Chandra Osservatorio a raggi X, vediamo Giove, le tempeste solari accendono l'aurora boreale su Giove. La prima foto a sinistra è fatta risalire al 2 ottobre 2011 e quella a destra al 4 ottobre sempre del 2011. Riprendiamo il video e sovrapponiamo all'immagine dell'inizio la seconda immagine della fine dei 16 secondi, che sono pari a 160 ore terrestri. Una volta sovrapposte, come potete notare, dopo 160 ore, vale a dire dopo quasi una settimana, le nuvole su Giove non sono più nella stessa posizione, ma si sono spostate. Ma facciamo altro. Ho fermato il video dopo tre secondi, che corrispondono a 48 ore terrestri. Sovrapponendo le due immagini, anche se di poco, si vede chiaramente che le nuvole su Giove si sono spostate. E adesso prendiamo le due immagini della NASA dove la seconda, quella con l'aurora boreale, è stata scattata, affermano, 48 ore prima, lo stesso tempo della sovrapposizione dell'animazione. Et voilà! Nessun movimento dopo ben 48 ore. Le due immagini sono identiche. E nessun movimento, come il nostro meraviglioso regno piano, fermo ed immobile. Chi è che racconta Baggianate, Voyager 1 o la NASA? Risposta, tutte e due. Credere nello spazio è solo il risultato dell'indottrinamento della narrativa in atto. Fate le vostre libere ricerche indipendenti dalla narrativa in atto e scoprite il grande inganno che si sta perpetrando da oltre 500 anni. A disposizione avete il preziosissimo indice alfabetico, senza spese, senza abbonamenti, senza sottoscrizioni. Non dimenticate che credere è nemico di conoscere e che il pensiero crea. Ma se il pensiero è indotto da entità malefiche con l'inseminazione di inganni, produce solo ed esclusivamente paura. Ed una volta che l'anima ha paura diventa un gioco da ragazzi, portarla dove non deve andare. Vedo.